Io sono Anna, New Body Planet, sono Rossella, sono Monica, sono Valentina, ci occupiamo del front desk e dell'area commerciale della New Body Planet, perché il movimento è VITA! È stato organizzato per la giornata di domani, sabato 17 settembre, dal comune di Cava dei Tirreni, nell'ambito delle iniziative per la celebrazione del quarantennale della morte di Mamma Lucia e in vista della realizzazione del museo dedicato a lei, un interessante incontro convegno dal titolo per Mamma Lucia, dalla Germania con amore, che si svolgerà a partire dalle 10 presso il Palazzo di Città. Per l'occasione è previsto una visita ufficiale del Consigliere per gli Affari Politici dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania presso la Repubblica italiana, Alexander Gross Klags, che verrà a visionare i luoghi dove avvenne, nel settembre 1943, la storica battaglia di Cava, tra i tedeschi e gli alleati sbarcati nel Golfo di Salerno, e dove la Mare dei Caduti si rese protagonista della sua straordinaria opera di recupero delle salme dei caduti. L'appuntamento sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza del professor Lutz Klinkhammer, noto docente di storia contemporanea e vice direttore dell'Istituto Storico Germanico di Roma, già altre volte ospite di Cava dei Tirreni, che dopo l'accoglienza delle autorità e la visita del Palazzo di Città, alle ore 10.30 circa, nella Sala d'Onore, terrà un alexio dal titolo La Battaglia di Monte San Liberatore, come luogo della memoria, sullo sbarco e su Mamma Lucia, illustrando tra l'altro il preziosissimo lavoro di identificazione dei soldati recuperati con certezza dalla Mare dei Caduti. Sarà presente inoltre la dottoressa Nancy Mengoni, funzionaria del Volksbunde e direttrice inter alias del Sacrario Militare Germanico di Cassino e del Cimitero Militare Germanico di Pomezia, dove sono state traslate le salme di tutti i caduti tedeschi della Battaglia di Salerno, tra cui moltissimi recuperati proprio da Mamma Lucia. Ad integrare degnamente queste prestigiose presenze sarà il professor Massimo Panebianco, docente merito di diritto internazionale presso l'Università di Salerno. Il programma della giornata sarà inoltre caratterizzato da una visita alla grotta di Monte Castello, dove Mamma Lucia rinvenne i primi caduti e dalle successive tappe al burgo, alle sale del nascente museo e agli altri luoghi di Mamma Lucia, in primis la chiesetta di San Giacomo e il memoriale in marmo di Ugo Marano nella piazzetta del Purgatorio.